Grazie, grazie. Troppo buoni, troppo buoni. Webpack, Webpack, il vostro bundle finale. Dopo questa sera non utilizzerete altro, ve lo assicuro. Passiamo subito a chi sono? Andrea Gianantonio, aka Gellibelli, per gli amici, lavoro al frontend di immobiliare, membro attivo del Pug Roma RomaJS. Se volete twittare il mio account Twitter GellibelliDev, purtroppo la nota casa di Caramelle aveva già rubato il nome. Invece l'account Twitter di RomaJS, se non sbaglio, è Roma underscore JS. Vorrei aprire una piccola parentesi su questo mondo, che ritengo sia molto importante. In quanti di voi utilizzano la programmazione modulare? Ok, quindi avete sentito parlare di CommonJS, AMD, eccetera, eccetera. Molto interessante. Perché molto interessante? Molto interessante perché ci aiuta a incapsulare ed organizzare bene il nostro codice. Perché è importante incapsulare il nostro codice? Per evitare collisioni di scope. Spesso si ritrova a avere codice sparso per tutta la nostra codebase, assegniamo una nuova variabile globale, boom, abbiamo sovrascritto la variabile molto importante per un altro sviluppatore. Quindi incapsulando riduciamo questi rischi. Possiamo iniziare a utilizzare differenti versioni delle nostre librerie, perché se ai nostri moduli, utilizzando questo approccio, possiamo farli diventare delle librerie, versionarle e utilizzarle in versioni differenti, in diversi progetti, portare avanti la libreria, in un progetto rimane un po' più dietro, uno che abbiamo appena iniziato l'abbiamo rifattorizzata, può risultare molto comodo. Ovviamente c'entra anche la sicurezza, perché grazie a questa incapsulazione, avendo degli scope dedicati al nostro singolo modulo, esternamente l'utente malievolo non può utilizzare metodi che noi abbiamo deciso di rendere privati. Invece quando parlo di organizzazione, mi riferisco al fatto che è molto conveniente utilizzare l'organizzazione nella programmazione modulare, quindi decidere delle specifiche, delle convenzioni al livello di team, di dove mettere determinati moduli, quali nomi utilizzare, in modo che tutto il team sa quando deve debuggare direttamente dove trovare il determinato oggetto o modulo, o quando deve aggiungere una nuova funzionalità, dove andarla a mettere per aiutare tutto il team a essere più agili. Questa programmazione modulare ci aiuta e ci sprona a disaccoppiare, perché siccome creiamo tanti piccoli moduli per ogni comportamento, funzionalità, ci aiuta a portare fuori concetti sempre più, e quindi avere tanti piccoli moduli che fanno tante cose, e quindi disaccoppiamo le logiche e allo stesso tempo possiamo anche riutilizzarli. Tutto chiaro? Ok, come si definisce un modulo? Un modulo si può definire assegnandolo nella variabile globale, utilizzando l'approccio namespace, oppure dentro un tag script, ma esistono anche sistemi molto più moderni, come grazie a Node, un esempio potrebbe essere CommonJS, Node ci mette a disposizione delle API, come ad esempio la function require, grazie ad essa possiamo prendere l'eventuale dipendenza di cui abbiamo bisogno nel nostro modulo e fare roba del nostro modulo che deve implementare ed esportare un eventuale risultato grazie al modulo export. Oltre a CommonJS esiste anche AMD, dove per definire il nostro modulo utilizzeremo l'approccio della define, oppure la require. Con la define il primo parametro potrebbe essere il nome del modulo, è opzionale, il secondo parametro è un array delle nostre dipendenze, che verranno in automatico iniettate al terzo parametro che è una function, dove potremo scrivere la nostra logica e ritornare il valore che vogliamo, oppure tramite require, direttamente passando l'array di dipendenze e come secondo parametro la function. Ovviamente i due sistemi possono essere utilizzati insieme, quindi definendo il modulo come define, passando una function di dipendenze per utilizzare common, tipo require, export e module, effettuiamo il require delle nostre dipendenze, scriviamo la nostra logica, facciamo un modulo export. Da un anno a questa parte è uscita una nuova specifica, che è S6, che tutti conoscete, sicuramente. Quanti conoscono S6? Beh, infatti tutti conoscono S6, bravissimi. Dove ovviamente non abbiamo l'API di node require, ma un nuovo comando, una nuova function, che è import, che serve sempre a richiedere la nostra dipendenza, all'interno del modulo scriviamo la nostra logica e esportiamo il valore di ritorno che vogliamo. A differenza dei metodi, dei sistemi di moduli precedenti, con S6 possiamo effettuare anche più export, quindi andare ad accedere direttamente a risultati differenti del nostro modulo. Quindi qui entra in gioco Webpack, perché ovviamente se noi andiamo a dichiarare i nostri moduli con questi sistemi, se li inseriamo nel tag script della pagina HTML, ovviamente il browser dice picche, perché non conosce la funzione require, non conosce import, eccetera, eccetera. Allora abbiamo bisogno di dei tool che fungono da transpiler, che ci creano dei bundle, a partire da questo nostro codice modulato, passatemi il termine, per fare in modo che il browser riesca a comprendere il codice per interpretarlo giustamente. Quindi che cosa fa Webpack? Webpack è un module bundler. Ci genera un bundle a partire da tutte le nostre dipendenze di moduli, ma non è un task runner. Attenzione, sono due cose completamente differenti. È in grado di capire la maggior parte dei sistemi di moduli, come MD, come JS e S6. Perché dico la maggior parte? Perché per S6 non c'è ancora il supporto nativo, ma bisogna installare un pacchetto esterno che si chiama Babel e grazie ad esso possiamo tranquillamente utilizzarlo e compilare. Webpack è in grado di analizzare le nostre dipendenze, ma non soltanto dei file JavaScript, anche dei file CSS, immagini e HTML, tipo template. È in grado di creare non soltanto un bundle, ma anche più bundle. A noi la decisione, alle volte potrebbe essere comodo, abbiamo una nostra applicazione che ha un front office e un back office. Vogliamo separare due diversi bundle e possiamo definire più bundle alla pagina di login, ad esempio. Per forza dobbiamo generare un unico bundle cicciotto con tutta la logica della nostra applicazione. Infine, cosa non meno importante, ci mette a disposizione degli hook per modificare i nostri moduli, quindi alterarli, splittarli, minimizzarli, eccetera, eccetera. Quindi il flow quale sarebbe? Il flow abbiamo la nostra codebase piena di moduli e le loro dipendenze, abbiamo il nostro file JIS che utilizza come dipendenza un altro file JIS che utilizza un CSS che all'interno c'è un file PNG. Dato tutto questo in pasto al compilatore Webpack, ci genera degli asset statici da mettere in fondo alla nostra applicazione, alla nostra paginetta HTML, e tutto funziona come per magia. Come si installa? Ovviamente i requirement sono Node.js e NPM. Se vogliamo installarlo a livello di applicazione, di progetto, diamo il comando NPM install webpack-sidev, oppure se vogliamo installarlo a livello globale, diamo il comando NPM install webpack-g. Come configuriamo Webpack? Abbiamo tre modi diversi per configurare Webpack. La prima potrebbe essere quella da command line, un po' di flick, scusate, che da command line dove passiamo, diamo il comando webpack perché l'abbiamo installato globalmente, il path della nostra entry dell'applicazione principale, e il path di dove vogliamo che lui depositi il bundle che andrà a compilare. Possiamo utilizzare anche le API di Node.js, quindi fare require del componente webpack e utilizzarla come function passando un oggetto di configurazioni. Questo approccio è molto utilizzato quando utilizziamo un task runner come Gulp, Grant o Broccoli, quello che preferite. E quanti utilizzano un task runner? Bravi, va bene, va bene. Quindi approccio molto comodo. E infine c'è l'ultimo modo di utilizzare e configurare Webpack, potrebbe essere creare un file nella nostra route di progetto dal nome webpack.config.js, che non fa altro che il modulo export dell'oggetto di configurazioni, quindi non è altro che un oggetto common.js. E dando il comando Webpack semplicemente, senza passare nessuna option a command line, lui andrà a pescare questo file, prenderà l'oggetto di configurazione e effettuerà la compilazione per la generazione del bundle. Le opzioni di configurazione sono molte. Io ne ho raccolpate le più importanti, secondo me, come ad esempio context, la proprietà dove andiamo a definire qual è la route del nostro progetto dalla quale lui deve partire per prendere le nostre entry. La proprietà entry dove definiamo le entry nella nostra applicazione. Può essere definita come una semplice stringa, nel caso in cui ne abbiamo una sola. Un array di stringhe, nel caso abbiamo più entry, ma vogliamo un solo bundle. Oppure un oggetto dove definiamo nome bundle, stringa o array di stringhe delle entry differenti, quando vogliamo la suddivisione di diversi bundle. La proprietà output è dove andremo a definire dove deve posizionare il nostro bundle di output e anche il nome con cui vogliamo che lui lo deve chiamare. In module andiamo a dire a Webpack come deve interpretare i nostri moduli. Se noi abbiamo delle dipendenze particolari, come ad esempio S6, vogliamo effettuare il require di un modulo che utilizza S6. Ad esempio abbiamo bisogno di Babel, questo è il punto in cui dobbiamo andare a specificare il loader che Webpack dovrà utilizzare per interpretare quel file. Quindi qui andremo a dire quando trovi un'estensione di questo tipo di file utilizza questo loader. Questo è il punto dove andiamo a specificare questo. In resolve è dove andiamo a definire i path di dove deve trovare i moduli. Quindi se noi ci avvaliamo di NPM oppure di Bower, ovviamente ci troveremo nel nostro progetto la famosa cartella Node Modules o Bower Components, qui andiamo a definirgli dove sta. Ma anche directory custom, se noi in tutti i nostri moduli ci piace che devono stare in ciccio e non vogliamo scrivere ciccio ogni volta che vogliamo utilizzare il nostro modulo custom, qui basta andare a mettere il prefisso e lui sa che deve andare a cercare in tutti questi path per risolverli se non lo trova a passare successivo o se non lo trova a passare successivo. Molto comodo. In dev tool è dove, diciamo, a Webpack quale tipologia di generatore di mappa utilizzare. Come diceva prima Luca, è uno strumento molto comodo in fase di sviluppo per ci aiuta a capire meglio grazie allo stack trace prolisso e ce ne sono diversi, sta a voi scegliere quello che più vi piace. Infine plugins e dove andiamo a definire quali plugin Webpack deve applicare in fase di compilazione. Quindi se vogliamo che lui debba minificare il nostro codice sarà qui che andremo a definire quale plugin Aglify.js ad esempio per minizzare il codice. ce ne sono ancora molti altri di opzioni, lascio a voi scoprirle, sperimentarle per divertimento. Quindi dopo tutta questa fuffa, sta roba di configurazione super noiosa, immagino, sì ma faccio vedere un po' di ciccia, no? Quindi immagino che a questo punto volete vedere un po' di codice e quindi mi siedo un attimo e vi faccio vedere qualche esempio che ho preparato. Emo mi serve... No, più che altro guarda il posto di vadello perché ce l'hai accalato e tu lo devi dire 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 ok ok e come faccio? Aspetta è un po' complicato un po' tutto incastrato spacco il microfono alluga ok ok si vede qualcosa? No allora primo esempio che ho preparato per voi è un esempio di una singola entry non va ok si vede qualcosa? perché se apriamo allora perché ho bisogno del path dei file per aprirli no dobbiamo fare font ffff Era quello sbagliato, credo. Ah, perché devo modificare il font e l'editor. Esatto. Sì, l'ho fatto prima. Esatto. Sì, l'ho fatto. 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 L'ho fatto. Sì, l'ho fatto. Quindi se andiamo a app. Sì, l'ho fatto. Sì, l'ho fatto. Si aprono. Sì, l'ho fatto. Sì, l'ho fatto. Sì, l'ho fatto. 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 quindi così richiama il requier, di fatti se andiamo un poco più giù troviamo il chunk 1 dove all'interno c'è la function proprio con la logica del nostro componente, subito dopo che cosa fa? Fa quello che abbiamo descritto, al posto di require del file CSS utilizza il suo metodo webpack require 2, quindi al chunk 2 ci troveremo il modulo per leggere i file CSS, di fatti è così e siccome è un componente che ovviamente utilizza a sua volta altri moduli, concatena tutte le proprie dipendenze del modulo del loader che ha utilizzato e vi discorrendo fino ad arrivare a n, ora capite perché ce li ha nascosti. Quindi se andiamo ad aprire il nostro bellissimo file dove abbiamo incluso soltanto il file JavaScript, come per magia che cosa ci aspettiamo? Una pagina HTML dove c'è stampata Ciao Roma.js con il background e il testo colorato, quindi voi state dicendo ma il CSS dov'è? Il CSS è nel file JavaScript, di fatti lui ha preso il contenuto del file style e grazie al loader lo ha iniettato all'interno del chunk opportuno, ora se ve lo ritrovo ve lo faccio vedere, non è questo, eccolo qui, ha capito in base al modulo che gli è arrivato, ha preso body e ha preso il contenuto di quello style e lo ha iniettato tranquillamente al body, semplice, domande? Ok, vogliamo andare avanti? Altro esempio, in questo esempio vedremo l'utilizzo di due entry, quindi proprio l'esempio di cui vi parlavo prima che può essere molto usuale fare sia un front office che un back office, quindi se andiamo ad aprire il file di configurazione come entry a questo punto non do una semplice stringa ma un oggetto di entry, quindi dico a webpack creami un entry, un bundle, bundle 1 a partire dalla entry app 1 e creami un bundle 2 a partire dalla entry app 2. in output mettimi il file bundle sempre dentro public.js e come name in questo caso non diamo il nome specifico da dare al bundle perché è un nome dinamico definito in fase di configurazione, webpack ci mette a disposizione dei placeholder tra quadre come name e quindi significa che in base al nome che mi ha specificato nella configurazione di entry mettimi in output, utilizza quel name lì, quindi mi aspetto che in output ci sarà un file.js chiamato bundle 1. Vediamo la nuova option di cui ho accennato prima che è plugins, quindi voglio interferire sulla compilazione e voglio dire a webpack creami un bundle common, che significa un bundle common? Questo plugin comodissimo serve a dire a webpack se trovi codice utilizzato nelle diverse entry mettimelo in un altro bundle dal nome common e chiamamelo e scusate come secondo parametro gli passiamo tutte le entry che lui deve analizzare quindi facendo con questa notazione gliele stiamo dando tutte, se invece andavo a mettere a mano il nome delle entry significa soltanto per quello che avevo specificato. Quindi se lui troverà codice duplicato o dipendenze che vengono utilizzate in entrambe le entry, lui me le metterà in un common bundle. Che cosa abbiamo scritto? Abbiamo sempre il nostro componente LO, in app 1 in questo caso prendo la dipendenza LO, stampo LO ma GS, in app 2 prendo sempre la dipendenza LO ma stampo Pug Roma. Quindi se ora andiamo a eseguire da terminale webpack, speriamo che sia più veloce, 0,2. Ok, che cosa ha fatto questa volta? Potete notare che negli asset, in questo caso c'è bundle 1, c'è bundle 2, common JS, proprio come quello che volevamo che facesse, il nome che ha dato ai chunk e le dipendenze analizzate sono app 1, app 2 e LO. Quindi ora se noi andiamo in public, ho creato opportunamente due file HTML dal nome app 1 e app 2, dove in questo caso quando si utilizza questo approccio che si chiede a webpack di creare un bundle common, ovviamente il file common deve essere specificato da tutte le parti dove abbiamo deciso di farlo spuntare fuori. Anche nel caso in cui lui non l'ha trovato, il file common verrà creato lo stesso, forse devo togliere le notifiche. Quindi dicevamo, andiamo a vedere che cosa ha messo in public, ha generato giustamente bundle 1, bundle 2 e common, in questo caso il bootstrap non lo mette in ogni singola entry, ma lo mette soltanto in common, ecco perché è obbligatorio mettere il common in ogni singola pagina HTML, dove come prima fa il suo bootstrap, al chunk 0 se lo riserva per lui stesso, al chunk 1 inserisce la dipendenza che è riuscita a portare fuori, che ha capito che veniva utilizzata da entrambe e due le entry, e notiamo che non c'è nient'altro, quindi è riuscito a portare fuori quella logica e l'ha messa dentro common. E invece in bundle che cosa c'è? C'è soltanto la logica della nostra entry, sempre chunk 0 perché, scusate, sempre chunk 0 perché parte sempre da lì, per ogni singolo bundle che genera, ma in questo caso c'è soltanto la logica della nostra entry e dove c'è la require del componente low, ora c'è il suo metodo che è definito nel bootstrap di common, chiamando il chunk 1 che è sempre dentro common. Non so se è chiaro la potenzialità di tutto questo, so che sono abbastanza, forse anche nervoso, se sono abbastanza chiaro, e se avete domande chiedete pure. Non so quanto tempo ho, io ho preparato diversi esempi, cioè quanto tempo mi manca? No perché poi devo finire con le slide ancora. 7-8 minuti o 5 minuti. Ok. Allora vediamo in maniera molto veloce e resolve, dove in questo caso solita solfa per quanto riguarda entry output, il resolve, come vi spiegavo all'inizio, andiamo a definire dove deve andare a prendere i componenti. Difatti diciamo quali sono le dirette dei nostri moduli, in questo esempio utilizziamo ad esempio le dipendenze esterne prese con NPM, quindi andiamo a dire dove si trova node modules e dove è la nostra directory custom con i nostri moduli. difatti in questo esempio hello che prima avevo lasciato sparato dentro la directory JS, l'ho messa dentro modules, sempre lo stesso componente, in app in questo caso non c'è bisogno che gli vada a dire quando vada a utilizzare hello vai in JS modules hello, ma basta che gli do il nome del componente lui andrà a ciclare i path delle dipendenze e lo troverà e lo riuscirà a risolvere. Lo stesso discorso per quanto riguarda node modules, perché in package JSON ho detto oltre a webpack installami moment, quindi ho definito come path di resolve anche node modules, lui riuscirà a interpretarlo e eseguirlo. in questo esempio ho fatto diciamo un po' più qualche riga di codice in più giusto per far vedere l'utilizzo di moment come veniva, direi di saltarlo, tanto non fa altro che stampare la stessa pagina e dinamicamente fa vedere il tempo che scorre in avanti e utilizza. Forse potrebbe essere sensato vedere che cosa ha messo in public e alla fine è sempre per giù la stessa zolfa se me lo apre non me lo apre ah no ho perso proprio non sta rispondendo ah ecco, è arrivato ok, solito bootstrap al chunk 0 ha posizionato il require rispettivi stesso discorso funziona identico e spiccicato come sia per i moduli le dipendenze esterne i node modules che quelle scritte da noi quindi nulla di differente al chunk 1 a quel punto mette il low e poi da qui in poi parterà tutta la la le i chunk che vengono della dipendenza di moment quindi tutto quello che porta fuori moment ok in plugins ho messo un esempio di come utilizzare ma forse c'è troppi tab aperti e non ce la fa più in plugins ho messo un esempio di di utilizzo di un paio di plugin comodi che Webpack ci mette a disposizione entry e output ormai nemmeno ve li spiego più c'è un plugin abbastanza stupido e divertente che è quello aggiunge un banner in testa al nostro modulo al nostro bundle finale quindi metterà in testa ai sorgenti la stringa che vogliamo con i successivi due plugin andiamo a lavorare un po' sull'ottimizzazione quindi se prima il nostro bundle poteva pesare non so 400k grazie all'ottimizzazione e all'assegnazione di questi oggetti Webpack durante i fasi di compilazione prenderà possesso di questi plugin e li applicherà il primo serve appunto per effettuare la minificazione e il secondo serve a dire le dipendenze utilizzate più spesso portamele in alto perché ovviamente ora abbiamo esempi molto molto banali però nel caso in cui abbiamo un bel progetto bello cicciotto il nostro bundle potrebbe cominciare a pesare abbastanza e in fase di processazione se un un modulo viene utilizzato molto spesso grazie ad esso diciamo mettimolo in testa così verrà subito processato e più veloce l'esecuzione vogliamo vedere come compila la minificazione potrebbe essere interessante siamo in 04 ovviamente il mio Mac che è abbastanza datato e vecchiotto in qualsiasi normale computer non abbiamo questi tempi in fase di compilazione ovviamente come potete vedere la build è andata di nuovo con successo ha creato il bundle JS richiesto con le due dipendenze 99 moduli nascosti perché ovviamente in questo caso abbiamo tirato dentro node che a sua volta utilizza un sacco di dipendenze e se andiamo a vedere il generato questo ci metterà un po' a aprirlo perché ovviamente eccolo qui ce l'ha tutto minificato pronto per la produzione altro esempio che vi posso far vedere ah quello sull'inting anche voi siete appassionati di coding style javascript eccetera eccetera conoscete quindi jsint sint eccetera eccetera webpack ci mette a disposizione dei loader in base alla specifica che abbiamo scelto di utilizzare noi e il nostro team di sviluppo semplicemente in fase di configurazione anzi in questo caso nell'esempio ho scelto sint quindi abbiamo bisogno sia della dipendenza sint che il loader opportuno di webpack per s lint in fase di configurazione in questo caso questa specifica va fatta dentro module perché come dicevo è lì che diciamo webpack come interpretare i nostri i nostri moduli in fase di compilazione ma a differenza di prima dove la proprietà definita era loaders in questo caso è preloaders perché appunto lui deve prima di compilare non come deve compilare deve analizzare il codice per segnalarci eventuali errori un esempio banale potrebbe essere 5 in questo caso do il parametro meno w che sarebbe una volta finita la compilazione rimane in watch quindi è in grado di rimanere in watch durante la fase di sviluppo e darci a console eventuali errori o che so altro per funzionare ovviamente abbiamo diversi ci sono diversi approcci ho utilizzato quello di mettere da document root un file di configurazione estendendo le raccomandazioni standard andando a dire in che tipo di env ci troviamo in modo che non si arrabbi quindi grazie a node true non si arrabbia se trova require ad esempio grazie a browser non si arrabbia se trova window o document e grazie a common js non si arrabbia se trova modulo export in rules ho definito un paio di regole stupide che mi piacciono ma che non erano tra quelle raccomandate la prima è semplicemente equal 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 quindi quando dobbiamo fare controlli strict devono essere sempre strict il secondo parametro da dare le rule è due nel caso vogliamo che spari un error uno se vogliamo warning zero se non deve dare nessuna segnalazione la proprietà di indentazione come deve indentare in questo caso vuole un array la prima è per dire che tipo di errore darmi quindi uno in questo caso warning e quattro che tipo di indentazione no console significa se trovi un console log mi devi mi devi sparare un errore grosso così perché in produzione non voglio console log e per quanto riguarda i quote io sono un fan dei single quote quindi è una regola che utilizzo molto spesso quindi se lui è rimasto ha compilato adesso notate che non ha dato il command line finale è rimasto in watch quindi significa che se io vado nel mio componente app e faccio una modifica banalissima non so document write metto le doppie ops mi ha sparato un errore grosso come una casa perché odio le doppie un attimo che ci arriviamo ecco dice che c'è un errore in app js il path che tipo di errore parsing error e la tipologia e come raggiungerlo anche un piccolo estratto di codice nel caso in cui invece non utilizziamo una tabulazione corretta se non sbaglio ho detto di gestire warning vediamo cosa fa ecco ci spara fuori un warning dicendo attenzione l'indentazione è errata sistema il tuo codice prima di committare finito anche quest'altro esempio è stupidissimo mi rimane l'ultimo super cicciotto al quale vi volevo mostrare come utilizzare webpack insieme a un task runner ne ho scelto uno a caso gulp quindi abbiamo il nostro bel gulp file per quanto riguarda il file di configurazione è sempre lo stesso un oggetto un modulo export di un oggetto di configurazione normale ho aggiunto nuove nuove option per farvi un esempio un po' più interessante l'option external significa io jQuery ce l'ho attaccata a window utilizzo la cdn quindi se 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 qualche dipendenza qualche modulo utilizza jQuery stai tranquillo che ce l'ho e sta lì quindi non si preoccupa di andare a risolvere la dipendenza o non si arrabbia per quanto riguarda Resolve stessa fuffa di prima e invece a plugin altro plugin interessante che volevo mostrare era Webpack Provider Plugin dove con questa configurazione stiamo dicendo a Webpack in tutti i componenti che io in tutti i moduli che andrò a scrivere iniettami jQuery non voglio stare lì a fare require ogni volta di jQuery e iniettamelo in ogni modulo poco stupido potrebbe essere stupido con jQuery molto comodo con React quando si scrive un sacco di moduli con React e ovviamente in tutti i componenti abbiamo bisogno di React quindi qui possiamo dire passami React in ogni modulo che utilizzo e non dovremo fare più il require all'inizio di ogni componente se andiamo analizzare il file gulp ho tirato un pallo un paio di ovviamente gulp gulutili per fare un po' di log path per fare path join webpack per utilizzarlo come function per chiamare all'interno del task il file di configurazione introduco un nuovo componente che è webpack dev server è un componente molto carino che serve a tirarci su un ambiente per sviluppare al volo senza che ci dobbiamo fare un virtual host eccetera eccetera e supporta l'ave reloading e quindi rimane in watch e si autoricarica senza bisogno di fare F5 e con e ci andiamo a prendere il nostro file di configurazione che abbiamo messo nel documento del progetto nel route del progetto primo di default ho scelto di ovviamente dire chiama il task webpack dev server perché di default di solito siamo in sviluppo e dai il comando gulp ti tira su semplicemente gulp con webpack dev server proviamo a vedere che combina cd punto punto slash 06 c'è ancora tempo non è che sto andando lungo siete ancora svegli hai visto come ok ok alzi la mano chi è super annoiato solo uno pensavo di più vabbè allora diciamo comunque gli esempi li vedete vabbè ormai è partito vi faccio vedere giusto che ha fatto la build è partito con il task webpack dev server ci segnala guarda che se vuoi andare a vedere la roba sta a questa url chiama webpack fa la build del bundle e in questo caso ha creato un bundle un chunk particolare che c'è anche un demand perché all'interno del mio componente ho utilizzato una richiesta di modulo di modulo comd quindi di creare un demand vediamo un po' che succede no ho sbagliato ho preso questo ho preso questo vi faccio vedere soltanto questa cosa quindi ho tirato su un server che so che taglio express js dove ci dovrebbe dire esatto che l'app è ready mi aspetto che esca l'espector esatto network come vi dicevo ho utilizzato poi con calma vi potete andare a vedere gli esempi che sono su github ho utilizzato un approccio per richiedere un componente con amd quindi modalità asincrona perché è una funzionalità che in tutta la mia pagina mi è utilizzata poco ho deciso di utilizzare questo ma soltanto allo scaturire di un determinato evento quando succede questa cosa lui genera quel chunk on demand e non è nel bundle che ha messo in output ma l'ha creato a parte questo bundle viene tirato giù al volo come potete vedere dall'asset che è arrivato tramite lo inietta la pagina lo esegue processa e ha stampato quello che faceva poi con calma vi vedete l'esempio se volete mi contattate se non è chiaro e fine alla storia che se no andiamo troppo lunghi mi spiace te ne vai ok chiudiamo qua torniamo le slide ok ancora svegli si quindi abbiamo visto questo po' po' di codice forse descritto male forse troppo forse troppo poco ma è soltanto per darvi degli stimoli a studiarlo ancora e quindi la domanda sorge spontanea sì ma chi lo utilizza Webpack? Webpack viene utilizzato in produzione da Instagram Airbnb Soundcloud Pinterest e ovviamente da immobiliare preparato una piccola tabella comparativa perché Webpack non è l'unico tool non è l'unico Cristo al mondo che è in grado di fare tutto questo esiste anche Reguard.js Browserify GSPM e Rollup ho raccolto un po' di feature che forse potrebbero essere comode quando si sviluppa un'applicazione da quello che potete vedere con questo cioè non sto dicendo Webpack è il meglio fa tutto quello che vi serve e gli altri sono merda no anche gli altri fanno ciò che ci potrebbe servire forse con una configurazione manuale forse con abbiamo bisogno di un plugin esterno da iniettare ma alla fine quello che ci può servire chi più chi meno lo fanno tutti sinceramente non ho mai messo le mani sugli altri tool quindi non sono nemmeno non mi ritengo nemmeno in grado di dirvi e consigliarvi utilizzate questo oppure no forse sono stato fortunato a trovarmi e imbattermi in questo tool che mi dava tutto quello che mi serviva anche abbastanza gratis senza tante configurazioni e quindi Webpack 2 Scamming Webpack 2 Scamming sì perché non è un progetto morto in pieno sviluppo nasce da un'idea open source di uno sviluppatore ma c'è una bella community dietro che ci lavora hanno tirato su una beta sono alla 2.05 ovviamente come progetto open source non si sa quando davvero uscirà la release stabile però la roadmap è molto interessante aggiunge un paio di chicche abbastanza notevoli finalmente abbiamo il supporto nativo per S6 non ci sarà più bisogno di installare componenti esterni per effettuare l'import e export introdurranno il concetto di tree shaking per S6 concetto molto interessante introdotto inizialmente da roll up bisogna darne il merito come dicevo prima in S6 per dire in due parole che cos'è il tree shaking possiamo effettuare diversi export non soltanto una quindi al nostro modulo possiamo far esportare diversi risultati il tree shaking non fa altro che in base a quale tipo di export ci siamo presi del modulo lui ce lo porta nel bundle quindi niente più paura di oddio devo prendere questa libreria esterna che pesa un mega però a me mi serve solo sta function che faccio me la scrivo io no se è scritta in S6 e esporta quel singolo valore nel vostro bundle finale finirà soltanto con la porzione di codice per rendere i nostri bundle sempre più leggeri un'altra cosa buona è che la configurazione potrà essere fatta anche tramite function tramite function oggi come oggi è un po' scomodo col solo file di configurazione gestire l'environment quindi se vogliamo minimizzare o meno il file ci viene in aiuto di fatti task runner per gestire queste diverse environment domani con webpack 2 potremo farlo più semplicemente finalmente poi hanno risolto il modo di configurare il resolving l'opzione di resolving perché oggi come oggi ci sono tipo forse non voglio dire una bugia ma quattro modi diversi per fare la stessa identica cosa cioè l'esempio che vi ho fatto vedere per indicare come doveva risolvere i path di dove andare a trovare i moduli si può fare in quattro modi diversi io ne ho scelto uno funzionava davanti però mi chiedo perché staremo a vedere infatti dicono che lo risolvono introdurranno la gestione dei chunk on demand la gestione degli errori sui chunk on demand oggi come oggi il chunk che avete visto sparato nella pagina che si è preso on demand iniettato per processare il codice oggi come oggi se quello là non viene scaricato bene e sbagliato il path non se ne accorge nessuno grazie all'introduzione delle promise su questo aspetto potremo stare in ascolto sul risultato e ovviamente essere sicuri di gestire l'errore nel caso in cui il chunk on demand non sia stato caricato bene e ovviamente questo introduce una bella dipendenza quindi se il nostro browser non supporta il concetto di promise dovremo utilizzare un polyfill quindi dopo tutta sta fiera ricapitolando che cosa fa Webpack Webpack ci permette di utilizzare sistemi di moduli CommonJS MDS6 ci permette di creare singoli o più bundle ci permette di creare dei bundle common ad esempio io vi ho fatto l'esempio di la creazione di un bundle common a partire da tutte le entry ma volendo si può specificare anche io ti dico che cosa devi mettere in common ad esempio voglio fare un vendor lib dove ci metto bootstrap jQuery e qualcos'altro che so che servirà a tutte le pagine quindi è anche abbastanza versatile il plugin common è in grado di minimizzare il nostro codice ci sono dei loader anche per i pre-processori come SAS LESS GSX abbiamo 150 loader differenti non sono pochi avete volete leggere qualsiasi avete bisogno di un qualsiasi tipo di file all'interno del vostro componente grazie al loader riuscite a prenderlo analizzare il proprio contenuto e lavorarci sopra non so per dirne uno un file json oggi come oggi prendere un file json da file da file system per poter prendere delle proprietà all'interno non potrebbe essere non è così banale grazie a un loader nel nostro modulo possiamo andarcela a prendere ce lo portiamo in una bella variabile e la utilizziamo più di 30 plug-in ne abbiamo visti pochi ce ne sono altri interessanti sempre lascio per lo studio abbiamo il live reload grazie a webpack dev server che vi ho mostrato in un microsecondo e ovviamente molto amico del vostro task runner se volete utilizzarlo all'interno dei vostri task lo potete fare tranquillamente domande immagino mille o 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